se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale regà, oggi vi voglio far vedere come entrare all'interno di questo posto che dovrebbe essere la banca di GTA, la bank sti cazzi, ok? vicino al nuovo salone quindi semplicemente ci mettiamo in questo punto e ci spariamo per terra con l'automizer in modo da incastrarci, regà, tra il muro e le piante a questo punto ragazzi una volta che vi sarete riusciti a baggare tra il muro e le piante se siete atterrati diciamo in piedi come è successo a me adesso vi incastrate in mezzo e una volta che siete incastrati vi sparate di nuovo per terra con la pistola o contro il muro e a questo punto vedrete, sbadabamme regà, saremo all'interno di questo posto che dovrebbe essere la banca di GTA ragazzi purtroppo non ha di texture, non ha di niente non ci potranno sparare regà, siamo protetti quindi saremo mezzi in god mode ovvio se state vicino alle finestre e vi sparano un razzo esplodete regà, quello è ascoltato ma se state abbastanza distanti non vi potrà fare niente nessuno quindi a questo punto se volete poi uscire correte sbattendo in questo punto e boom saremo sotto mappa dopodiché ci farà morire e poi rispauleremo i lobby ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video iscrivetevi, commentate se giocate in Xbox entrate nei miei gruppi Telegram bella regà, alla prossima espadabamme iscrivetevi, commentate